Salve, buongiorno, benvenuti a questa edizione straordinaria, io come a nome del partito appoggio affinché potrai, volevo ringraziare gli elettori per il sostegno che ci avete dato, noi con i vostri voti stiamo cercando di mettere un mattone su un mattone per il nostro futuro, se continuerete a appoggiarci cercheremo di soddisfare nel vostro modo migliore possibile le vostre richieste, il partito promette di restituire il Noia TN310, restituiremo la me e la Deva e mi farò dare la patata, la gente non arriva a fine mese, noi faremo i mesi di 15 giorni, inoltre restituiremo i centesimi dei sacchetti della spazzatura, restituiremo ai di alle caprette, restituiremo Marco a Laura Pausini, restituiremo le parole persa al di Gabue, metteremo Cecilia nel vostro armadio, restituiremo i super santos, tutti i super santos che avete bucato giocando a pallone da quando eravate piccoli, restituiremo le ore persa di studio a tutti gli studenti, quindi facciamo un po' vedimento per gli studenti, inoltre per le casalinghe restituiremo le mollette che cadono dal balcone, tutto questo e molto di più, il partito di appoggiare chi potrai, appoggia come ben sapete Rionero, Ystar che adesso parte il filmato, che c'è in collegamento Ystar, un attenzione che parte. Mi chiedevo quando è che ti saresti svegliato, sei simpatico, mi chiamo Carla Trezzi, sì Carla Trezzi, ma per gli amici c'è un cricchetto, dove ti trovi? Fischia, sei a Radiators? Evidentemente ci sono dei problemi con il collegamento di West Hub, adesso ci colleghiamo con Aereo ZAC, vediamo un attimo se parte, vediamo se parte, eccoci ancora in onda e quindi con questi due collegamenti che sono saltati, evidentemente qualche problema, cioè non lo risolto dalla regia, ok sì, e quindi per ora è tutto, continuate a votarci, mi raccomando appoggia finché potrai.